Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco lì portarono un paralitico, disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico Coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé, costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico. Prendi il tuo letto e vai a casa tua. Ed è lì si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono presi da timore E resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Grazie a tutti.